Cominciamo le donne, rispondono gli uomini. Cominciamo! Donne! Vai uomini, rispondete! Così, grandi! Donne! Uomini! Di nuovo, donne! Uomini! Così, giro lungo, prendiamo anche le altre persone sedute. La piccina tornò, Miguel tornò, la vita è un pallidì, è un po' il suo tremor. Quanta fa bene che sola le sparò, barro a carico. Va le forze al nome, non dire sì ma dove. Dattà! 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 Grazie a tutti.